Bene, veloce video tutorial. Di mai capitato di vedere nei commenti YouTube che non avete la possibilità di rispondere? C'è il commento e poi sotto volete rispondere e non c'è il rispondi. Come mai? Come è possibile? Ve lo spiega a me gli accendini. Allora, voi avete messo nelle impostazioni di Google+, andate in Google+, impostazioni, avete messo chi può rispondere ai tuoi commenti su Google+, e poi avete messo solo tu, o se no solo la cerchia famiglia e quindi automaticamente tutto il resto del mondo non vi vuole rispondere. Quindi, se vi capita di rivedere una cosa del genere e gli volete rispondere, contattatelo direttamente, che ne so, in un altro video e dite, guarda che se vuoi che ti risponde qualcuno, magari hai fatto la domanda devi rimettere a posto queste impostazioni di Google+. Quindi, andate su Google+, impostazioni, chi può rispondere ai vostri commenti e voi avete messo solo tu, a voi, voi che non vi si può rispondere. Tutto il resto, insomma, il 99% delle persone di solito ce l'hanno messo bene. Però, mentre impostavate la privacy di Google+, avete fatto questo pasticcio. Che domandate a fare su un video YouTube una cosa, se nessuno vi può dare la risposta? Quindi, se siete uno che fa domande e che vi aspettate risposte bisogna che mettete la possibilità a tutti di rispondere ai vostri commenti. O perlomeno, se volete che vi risponde solo quella determinata cerchia quel determinato cerchia che avete messo in avanti allora sappiate che gli altri non possono rispondervi.